Questo video contiene alcune scende di violenza, se pensate che vi possa dar fastidio vi sconsigliamo la visione Qua è pieno di gente c'è, è perfetto, guarda Sì Mi stai osservando? Sì, purtroppo C'è il poliziotto a fucile dopo un po' dietro di te Accidenti, accidenti Ti consiglio Mi sta venendo ansia No Aia, me ne ho investito No, 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 c'è stato troppo alto La macchina sta bruciando U, è che mi tampona, lo vedi? La tua macchina sta bruciando, stiamo per esplodere Scendo, scendi, scendi, scendi e corri, scendi e corri Verso sotto, verso sotto Sto bruciando Eh, perché devo guardare troppe cose, c'è l'elicottero in testa Oh, oh, oh Eh, ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Stef E che si chiama GTA V E siamo tornati su GTA, questa volta con una nuova tipologia di video Perché sì, ragazzi, ci sfideremo e inizieremo una vera e propria serie di challenge In cui però ci sarà una cosa molto particolare Ok Perché per il vincitore ci saranno in palio delle Shark Card Ovvero le carte che ti danno soldi di gioco Esattamente I soldi in palio per questa prima challenge sono 600.000 Ovvero i soldi che ci servirebbero nella nostra serie principale di GTA Per comprare il primo edificio del club Se ovviamente non riusciamo a completare questa challenge Qui i soldi non potremo utilizzarli Andranno buttate queste card E di conseguenza nella serie principale dovremo farci i soldi Piano piano farmati Facendoci un mazzo enorme Facendoci un mazzo enorme Quindi abbiamo un interesse davvero alto di vincere questa prima fila No, diciamo sì che è un modo carino per integrare il farm dei soldi Della serie principale Quindi sì ha delle challenge Almeno le challenge avranno un senso La challenge che abbiamo pensato per questo primo episodio è molto particolare Ovvero dobbiamo cercare di arrivare a quattro stelline di pulizia senza utilizzare le armi Cosa pensi a riguardo? Vabbè vado a pugni guarda Aspetta, aspetta Fammi finire di dire le regole Ti prego lasciala in pace Sono già pronta per quando inizia il timer E fammi finire di dire le regole Abbiamo due tentativi a testa Due tentativi io, due tentativi Ferrinichi Non è io contro Ferrinichi ma Uno dei due ci deve riuscire Altrimenti niente Ok, ok, ok L'altra cosa che voglio dirti è Ti prego investi la gente con la macchina Cioè a pugni non ce la puoi fare Non sprecare un tentativo così Ma tu tu ne sei convinta che io non ce la posso fare a pugni? Se vuoi fare un tentativo a fallo Secondo me Ma tipo non posso usare neanche una stecca da biliardo La stecca da biliardo non è un'arma È una stecca da biliardo Ma non è che cambia molto Se vuoi puoi utilizzarla Perché tanto è praticamente uguale Questo lo dici tu Grazie Ok Allora però non è successo nulla Va bene Neanche adesso Ok una stellina Una stellina Perfetto Te ne mancano soltanto tre Ce la posso fare Non c'è bisogno Guarda qua è pieno di gente Cioè È perfetto Guarda Sì Mi stai osservando? Sì purtroppo Stanno scappando Preferirei non vedere tutto questo Due due Ce la sto facendo Ha senso è Ha senso Questa mi ha fatto la foto Quindi devo cancellare le prove Sicuramente Allora una macchina alla polizia Eccolo Eccolo Vai Aspetta Scappo che se non mi sparano Accidenti Due Scappa scappa Due Due Però mi ha dato una stellina Sali su una macchina Sali su una macchina adesso Perché ti stanno sparando di brutto Cavolo C'è il poliziotto a fucile Dopo un po' dietro di te Accidenti Accidenti Ti consiglio Mi sta venendo ansia No Aia Me ne hai vestito Allora ho trovato la macchina Sì Aspetta Ce la faccio Ce l'hai davanti Ti sta sparando Ti sta sparando mentre rubi la macchina Ce la faccio Sei sicura? Ce la faccio Parti Allora Uno Brava Cioè non ho più vita Non ho più vita Posso un attimino salire? No Ti prego Perché mi sparano Vieni muoviti Però devi correre E sto correndo Accidenti Ma ammazzano qua eh Mi vuoi far perdere la sfida Comunque sono a tre Tre? Sono a tre Ce la sto facendo Vieni Vai 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 Allora tre 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 Puoi partire Puoi partire Hai dei poliziotti a piedi dietro di te Quindi fai il giro e li investi Ok E vabbè pieno di polizia Come posso prendere solo i poliziotti? Cioè se mi fermo mi sparano alla grande Devi cercare delle strade dove puoi stare molto dritta Rallenti un po' Appena scendono dalla macchina Vai veloce e li investi E continui dritta Ma dici che la mia unica possibilità è investire i poliziotti? Sì Dove stai finendo? No No Piano 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 No Vai via vai via Vai via da questo posto Torna nelle strade normali Allora visto che ci No cavolo La tua è mancata E ha fatto un po' No Ok Tutto a posto Girati girati Eccoli aspetta Non vedo nessuno Aspetta No 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 Sono in macchina i disgraziati Attenta 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 Scappa 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 Uno però l'ha investito Passandoci timidamente Però ce l'ho fatta No 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 Non mi posso buttare Ti prego Gira gira veloce Gira 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 Perché mi sono incastrata qui? Perché non guardi la minimappa Esatto Eh perché devo guardare troppe cose C'è l'elicottero in testa Oh Ma sei pazzo Tutto a posto Sono esauriti Tutto a posto Sono esauriti È tutto ok Dai esci Esci Vieni Vai 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 Sei in ritardo Cavolo non li ho presi Sto morendo Vai dritta per un po' Vai dritta per un po' No sto morendo Come cavolo faccio la vita No è difficilissimo Ho preso degli rp non so bene per che cosa Per essere con me E investi quelli Ok Vai Mi sembra una buona idea Sono già risaliti No dai Salgono velocissimi macchina Le macchine stanno esplodendo da sole Potreste arrivare a 4 stelline così Mi prego morite Dovete morire Mi dispiace Però Io devo vincere i soldi Ci sono fiamme C'è di tutto Continua a scendere Magari Continua a esplodere La macchina sta bruciando La tua macchina sta bruciando Stiamo per esplodere Scendo Scendi Scendi e corri Scendi e corri Verso sotto Verso sotto Sto bruciando Corri 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 Le vedi la macchina lì in fondo Aiuto 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 No c'è un poliziotto che ci spara da lì Scorri Corri 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 Però aspetta lo posso investire No no non ce la fai Non ce la fai No devo provare il tentativo estremo Dove sei? Dove è finito? Eh non lo so Scomparto dietro di te Non lo so dove Vattene 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 Ma dai non ce la farò mai Se non investo qualcuno Aspetta ce n'è uno davanti Sì è una macchina Cerco di uscire lì nell'incidente Wow sì Aspetta Aspetta No ci dovevo provare Ci dovevo provare No è impossibile Impossibile Ho pensato A un'idea Dai miei fallimenti Ti è venuta un'idea No voglio provare Totalmente una tattica opposta Perché tanto Ho due tentativi Sì è davvero Quindi il secondo tentativo Si fa su serio Tu hai tastato il terreno In un modo Io hai tastato il terreno In un altro Cerchiamo un posto chiuso Ok dove devono passare Per forza da un punto E li prendo A colpi Ogni volta che vengono A senso Ti piace? Sì sì Ok meno male Partiamo ovviamente in macchina Però prima di tutto Dobbiamo trovare un buon posto Allora ti raggiungo Ti raggiungo Sì ho preso un veicolo adatto A questa missione Secondo me ti piacerà molto Ti piace? Cioè non hai stelline? No Come è possibile? È perché erano morti Quelli di questa macchina Come è possibile? Eh li avevo fatti fuori Sì Allora Un posto chiuso Dove stare Dove possono entrare Da un solo punto Allora ho qualche parco grande Ho qualche tipo campo Ho questi parcheggi così Vedi? Questi posti del genere Secondo me Allora Sto pensando Forse mi è venuto in mente Ho trovato il posto perfetto Dove stiamo andando? Eh non te lo posso dire Eh vabbè Hai capito? Sì Ok Allora Come vuoi iniziare? Entriamo dentro E prendi a pugni tutti Partire da lui Capito? Che potrebbe essere Un problema futuro Sì È un bodyguard Quindi secondo me È meglio risolvere all'inizio Il problema Ok Diciamo che Ci siamo presentati bene Al posto Salve Ciao ragazzi Ciao No Non posso utilizzare le armi qua Ma neanche i pugni? No Sali Sali C'è l'emente C'è l'emente C'è l'emente Veloce Mi investe pure Mi investe pure Ti prego Oh Oh Te ne vai Te ne vai Ma che cavolo Non posso fallire A una stellina No a Rio Cioè ma scherzi Veloce Veloce Sali su Eh certo Se stai fermo Ti prego Ti prego Ok Mi hanno già sparato Ehi belli Ok va benissimo Tre stelle E di già Eh se le investi bene Sì ci sta Eh no Un posto dove al 100% Puoi entrare E utilizzare le armi È il market Perché lì puoi fare le rapine E hai la pistola Quindi lì la ruola puoi usare C'è qui una market Lo so però c'è troppa polizia Quindi dobbiamo Seminarli un po' Per il giro andiamo nel market Dai che è una bella idea Sì 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 Grazie 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 Io in effetti l'ho pensata troppo Da picchiatore Eh vabbè il mio istinto Capito Allora Tu sei più strategico Io sono più capito Una persona che va Botte 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 E botte E botte E botte E forse ancora botte E forse di nuovo botte E quindi ci differenziamo Allora macchina qua Però è bello vedere tutti i tentativi diversi Dai è divertente Allora buongiorno Questo è il punto perfetto dove stare Ok Allora Aspetta che mi metto qui dietro Io non c'entro nulla Io volevo solo una coca cola Dico vieni a venire da questa parte Dove sei? Nello sgabuzzino Ah c'è lo sgabuzzino Sì 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 Adesso la mia tattica è che ogni volta che entro un puliziotto qua Lo affetto E lo faccio pure Guarda stanno entrando Aspetta 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 Ah Aiutami Vai 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 ce la fai Uno Dai Due E siamo ancora a tre stelle però Siamo ancora a tre Siamo ancora a tre Allontanati da me che se no ti colpisco per sbaglio Ok No no ci sono tranquillo Sono a tre No ma è da matti sta cosa Non era morto Aspetta che ho un bug di visuale Ti sto puntando Ok No io mi sposto proprio alla fine Sono ancora a tre No E hanno fatto fuori anche me No cavolo era una bella idea questa C'eravamo però cavolo sono arrabbiato Armati Cioè come accidenti si può fare Che sono così tanto armati Allora devo essere sincero Ho avuto grossi problemi perché Essendoci tu dietro di me Il mio personaggio cercava fisso di darti le Macetate Macetate Quindi cercavo di colpire a te Mi si flippava la visuale e perdevo il ritmo con quelli davanti Secondo me è fattibile con questo piano Dici Allora mi sa che lo riprovi Io le consiglio vivamente di partire da quello Proviamo quello Ok Giocati il tuo tentativo su quello Scusami se ce la facciamo anche a merito tuo Come facciamo Beh perché ma tanti soldi sono per entrambi Perché per il club Per il Ah quindi dici basta che li vinca uno Perché poi in effetti vanno per il club Sì No Ok Scusate Veloce 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 Accidenti Non possiamo stare assieme in ste cose No Vai via Stai zitto tu Allora Allora non fa la spia Il bagno è chiuso qua devi entrare Qua Sì Qua è perfetto Esatto Venite che ho solo due stelle Sto cercando di rimanere È un disastro È troppo difficile E questo market è più comodo dell'altro Perché poi il personaggio quando ha queste mazze Queste cose Prende Spara colpi all'aria Non è che li fa dritti Eccolo eccolo No ma da qui mi sparano però No No riesce a prendermi Allora stai lì dietro Stai lì dietro così Eccolo 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 Ok Ok una Dai ma son morta Mangia gli snack Mangia gli snack Ma non c'è come cavolo Ti faccio la scudo umano Ok Avevo uno snack No Allora non possiamo stare assieme nello stesso posto Cioè abbiamo capito sta cosa non fa Sì Ci siamo incastrati Mi ha fatto perdere un sacco di tempo Allora la riproviamo E io ti aspetto tipo fuori E guardo il tuo schermo ok Ok E cerco di avvisarti se arriva qualcun altro Va bene Perché non fa ci incastriamo Però c'è un problema Dimmi Abbiamo un solo tentativo Eh lo so Sì È il tuo Secondo me non li vinciamo Sono un po' in ansia Io sinceramente ero tranquillissima per tua sfida Perché pensavo sarebbe stato più semplice No Le quattro stelle sono dure No le quattro stelle senza armi Sono dure Perché con le armi te le fai in due secondi Ma non è in due secondi Guarda che a tre stelle arrivi veloce Alla quarta devi far esplodere un po' di macchina polizia Un po' di gente Sì ma io ad esempio Mi è capitato di Cioè giocare così Alla fine lo fai molto più semplicemente Dai con le armi fai un sacco di esplosioni Le raggiungi anche in fretta Dai Io faccio un attimino finta di nulla Guardami 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 Meno uno Zigo zago È stato investito il poliziotto Oh dall'NPC che ci vuole aiutare Non si sa come E poi lo faccio fuori Ok Ok Salgo sul veicolo Ti lascio qua Ti lascio qua Vai 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 dentro il market Vai Aspetta Boom Boom Doppietta Metti il mio schermo Metti il mio schermo A quanto sei? Aspetta che cambio Sono gasatissimo E rimango lì Non so cosa Credo il tre stelle Dammi conferma C'è il coso di action Comunque sì tre stelle Ok Tre stelle tre stelle Allora Questo qua è il market perfetto Per affettare i poliziotti Vado Vado Elicottero non mi uccidere Elicottero non mi uccidere Elicottero non mi uccidere Tu corri 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 Buongiorno a commesso Mi dispiace Ok Stiamo usando il suo negozio Allora Inventario Snack Snack Eeeh Una coca cola Bevi la veloce Bevi la veloce Sta coca cola No 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 Non basta con inventario Ok Ma c'è te pronto Arrivano eh Arriva 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 Eccolo No 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 mi sei flipato Mi rimetto il mio schermo Perché non c'è più niente da vedere Allora Cercati è successo Non so bene perché Io te l'ho detto Che quando usi queste armi Così a mano Diventa un ritardato Hai visto Cercava di dare colpi al vento Dall'altra parte E non mi si girava No Cioè gli prendono Anche a me l'ha fatto Mentre cercavo di farlo Cioè non Non lo puoi controllare Eh ma io pensavo Che si flipasse Perché eravamo vicini E invece neanche quello Adesso per farli Ci metteremo Non so quante ore Di farm Già Non so quanto Già Sarà tristissimo Sto prendendo a pugni un palo Inizi capito La sfida delle challenge E la fallisci pure La prima Che di solito Vabbè le scelte Molto complicate E beh dai Non potevamo scegliere Qualcuno di semplice No però è molto complicata Capito È davvero Davvero difficilissimo Perché poi i poliziotti Con le armi Ti prendono da lontano Sai la cosa che mi fa arrabiare Dimmi Che sono sicuro Che se ci riprovo Ci riesco Speriamo che vi sia piaciuto Questo video Fateci sapere nei commenti Lasciate tanti likes Insomma fateci capire Se volete Altre challenge su GTA Nel caso L'idea bene o male È due video Di GTA online E un video Di challenge A settimana Quindi un totale Di tre video di GTA Alla settimana Su nove video Circa che faremo Perché comunque Vi sta piacendo Noi lo stiamo Totalmente adorando Ci sono troppe cose Da fare per fare Uno o due episodi Settimanali Quindi se vi piace Anche questa roba Della challenge Passiamo a tre video Di cui due normali E una challenge Bene che si riesce Così si giunge Ci dice un bel like Questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 ciao